La classica Essen, l'expo più importante al mondo con le loro 190.000 presenze, perché presentiamo la nostra manifestazione alla stampa internazionale. Gran Premio Nuvolari quest'anno celebra la 25esima edizione, evento internazionale di autostoriche, organizzato per celebrare la figura di Nivola, il grande Nivola, il più grande pilota di tutti i tempi. Dicevo la 25esima edizione moderna, sono mille chilometri che verranno percorsi da circa 300 macchine provenienti da tutto il mondo, mille chilometri nel centro-nord Italia, attraverso bellissime città d'arte quali appunto Mantua, Partenza e Rivo, anziché le città della Toscana quali Pisa, Siena, Arezzo, fino ad arrivare ad Urbino e poi a Rimini, e poi a rientrare per Ferrara, per Ravenna e Ferrara. Concorrenti, dicevamo, circa 300 vetture provenienti da tutto il mondo, di cui queste 300, circa un centinaio sono vetture antiguere, prodotte in antiguere. Molto nutrita la compagine di concorrenti provenienti da Germania e dal nord Europa. Nutritissima la compagine tedesca, che praticamente raggiunge il 40% degli iscritti, nonché quella olandese e inglese. Abbiamo la partenza e l'arrivo a Mantua, città natale di Tassi Onovolari, e questo induce il pubblico, non solo degli appassionati, ma anche un pubblico turistico ad avvicinarsi a Mantua. Mantua, come sede di partenza e arrivo della manifestazione, è anche il punto focale di tutto l'evento, e sono moltissimi i visitatori che vengono a Mantua sia per godere del parco macchine, sia proprio per godere del piacevolezza della città gonzaghesa, della regia gonzaghesca. Aspettiamo quindi l'appassionato pubblico a Mantua nel terzo weekend di settembre, dal 17 al 20 settembre, per celebrare insieme la figura del grande Nicola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.